79 positivi in un solo giorno, 399 il totale, è di Ebole il triste primato di comune con il maggior numero di positivi in tutta la provincia di Salerno ed il sindaco Lucas Groia è pronto ad emanare provvedimenti restrittivi e ad incontrare il prefetto perché non serve emanare le ordinanze dice anche questa mattina in un'intervista a TV oggi serve farle rispettare e sarà un piano di controllo interforse a fare in modo che i nuovi provvedimenti vengano rispettati e consentano di limitare il contagio nel comune che è a rischio zona rossa Un incremento dei contagi è assolutamente preoccupante ma il dato di ieri effettivamente è stato un dato che ci ha ulteriormente allarmato Noi abbiamo già assunto nei giorni passati alcuni provvedimenti restrittivi, uno anche particolarmente sofferto che ha riguardato il cimitero oggi probabilmente i dati di oggi ci fanno capire che in quell'occasione avevamo visto giusto cioè nel senso che la curva dei contagi era tale che non vi erano le condizioni per far svolgere per far svolgere appunto l'appuntamento della commemorazione dei difunti con la dovuta sicurezza per i cittadini adesso proprio mentre stiamo svolgendo questa intervista siamo già al lavoro per assumere ulteriori provvedimenti restrittivi cioè che riguarderanno un po' tutte le piazze cittadine che verranno tutte quante chiuse al transito dei cittadini all'aggregazione dei cittadini perché iniziamo così a limitare i luoghi di assembramento stiamo valutando però anche altre misure restrittive e limitative in questa fase proprio perché abbiamo l'obiettivo di contenere la diffusione del contagio al massimo c'è un invito rivolto ovviamente a tutti a continuare a mantenere comportamenti responsabili per evitare che il virus si diffonda ulteriormente Il sindaco di Novivelia non ha esitato a indire una vera e propria zona rossa il sindaco di Eboli ci pensa? Diciamo che in questo momento l'ho letta l'ordinanza del sindaco di Novivelia ho capito anche probabilmente le sue motivazioni io ovviamente non escludo nessuna ipotesi il punto non è soltanto emettere però le ordinanze e avere anche poi le risorse umane e le forze per farle rispettare perché altrimenti poi rischiamo semplicemente di vanificare lo scopo per cui viene emessa quindi a secondo, ovviamente continueremo a monitorare l'andamento del contagio a seconda dell'andamento del contagio prenderemo provvedimenti più o meno restrittivi a secondo di come nei prossimi giorni si modificherà la curva dei contagi